Amici di Arend, benvenuti ad un nuovo video del Torneo OldStyle, io sono Leonardo Zullo e vi presento la sfida tra Black Mamba e Durex. Parte fortissimo Black Mamba, Capone ruba palla e vola in area di rigore sbloccando il risultato al quinto minuto di gioco. Altro pericolo per Durex, tiro dalla distanza dell'attaccante di Black Mamba e palla che scheggia la traversa, portiere immobile. Durex prova a reagire in qualche modo con Magalvi, ottimo nella serpentina, nei pressi dell'area di rigore, ottimo anche il tentativo di incrociare, il pallone muove la rete. Mischia in area di rigore per il corner, Durex sfiora il gol, c'è il salvataggio sulla linea, grandissima lettura difensiva. I ragazzi di Verola sfiorano ancora un altro gol con questa punizione ben calciata, bravo il portiere a mettere in corner. Capezzuto entra di forza in area di rigore, la palla resta nei pressi di Della Pia che realizza un bel gol. Poi la volta di Paesano, Caparbio ad arrivare sulla rispinta corta del portiere avversario e in sacca, con facilità, inutile le proteste dei difensori avversari. Disimpegno sbagliato di Monticelli, la palla viene spazzata centralmente e non ci pensa due volte. Capezzuto che realizza un meraviglioso gol dalla distanza. Ma è ancora la più bella, la punizione di Scarpetta che disegna una traiettoria meravigliosa da oltre 25 metri, uno dei gol più belli della settimana. Durex prova a accorciare il passivo con un paio di tentativi, ma nel finale arriva la firma di Yuculano in contropiede. Black Mamba chiude quindi il match sul 6-2, tutto troppo semplice per Yuculano davanti al portiere avversario. Vince Black Mamba, Durex esce a testa bassa un'attività.